Presentato a Macerata un documento unitario di CGL, CISL e UIL con l'obiettivo di rigenerare le aree dell'entroterra maceratese colpite dal sisma. I dettagli con Francesca Piatanesi. Rilancio dello sviluppo sociale ed economico delle aree colpite dal sisma. Un'intenzione ma anche un documento congiunto, elaborato e presentato da CGL e CISL e UIL della provincia di Macerata per riportare il lavoro nei territori terremotati del maceratese. Un documento di proposte per individuare percorsi di azione che possano garantire una prospettiva di vita e far tornare l'entroterra a un luogo in cui fare comunità. Lo consideriamo un documento aperto che mettiamo a disposizione del territorio per un confronto operativo e ideativo da svolgere nel territorio a partire dal confronto che già abbiamo avviato con le altre parti sociali attraverso la riattivazione in provincia di Macerata del tavolo istituzionale per lo sviluppo economico. Di fronte ai molti aspetti ancora aperti di gestione dell'emergenza e ai numerosi ritardi definiti giganteschi il documento vuole anche essere un punto di partenza per avviare nel territorio una campagna sindacale di ascolto dei bisogni, delle idee e delle proposte delle comunità locali affinché, è stato detto, la ricostruzione sia davvero partecipata.